Sì, al posto, il signor era un bel schifo! Ma tu non mi hai detto? Cianci, ma c'è il mio scolto! Ma c'è il mio scolto? Ma c'è il mio scolto! Ma c'è il mio scolto? Ma c'è il mio scolto? Ma che scolto? Ma che scolto? Ma c'è il tuo soldo? Non mi dò, non mi dò, non mi dò! I barindici possono entrare? Ma noi no! E' il donna! 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 Questo è il ruolo libero, non possiamo entrare! Siamo cittadini palervi d'Italia! E' il donna! E' il donna! E' il donna! E' il donna! E' una chiesa a un posto pubblico! I barindici possono entrare, ma io posso andare con lei! Lui si è la vergogna, mi deve portarci fuori, mi deve toscare, tolgo questo gatto di balogna, mi deve toscare, sta toscando, senza fingere. Giù le mani, giù le mani, guardate cosa state facendo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!